buongiorno oggi è mercoledì primo maggio 2024 per me è un giorno molto importante ora vi spiego anche perché siamo nel 1958 io chiaramente non sono ancora nato e mia mamma con mio papà vanno da Padre Pio per dirgli che mia mamma era incinta di me ma aveva qualche problema per la gravidanza quindi fecero il viaggio mia mamma e mio papà e andarono da Padre Pio quando Padre Pio vide mio padre lo cacciò subito e gli disse torna a casa da tuo padre mio nonno e chiedigli scusa per quello che è successo quindi aveva trattato male mio nonno o mia nonno io sinceramente non mi ricordo bene comunque so che era successo di questo fatto e mio padre dopo aver fatto mille chilometri con mia mamma per andare appunto da Padre Pio riprese il treno tornò a casa chiese scusa mio nonno e poi riprese il treno e ripartì per San Giovanni in Rotono 3000 km in 3-4 giorni da Bordighiera quindi certo punto mio padre quando tornò Padre Pio lo vide nel corridoio e li andò incontro e gli strinse la mano e gli disse complimenti perché mio padre gli stava per dire appunto che mia mamma stava aspettando me ma mia mamma era preoccupata per la gravidanza allora Padre Pio gli ha detto devi pregare siamo nel 1958 era appena morto Pio XII devi pregare Pio XII che ti farà la grazia per questo tuo figlio che poi magari in futuro potrà fare qualcosa anche per noi e per il Signore eccomi qua a parlare appunto di Padre Pio di Luigi Gaspari bene a due minuti dalla mezzanotte del 2 maggio quindi era ancora il primo maggio ecco che io vengo alla luce normalmente e però mia mamma al contrario di quello che ho detto in televisione siccome era le due minuti prima della mezzanotte fece mettere il 2 maggio il giorno della mia nascita perché era la festa del lavoro e soprattutto dei comunisti vedete Padre Pio ha sempre detto a mia mamma guai se viene il comunismo e come dice Luigi Gaspari la sinistra al potere perché sarà un danno per l'Italia e per il mondo ecco allora attenzione però un conto è l'ideologia comunista che è un anticristo come dice Don Dolindo Ruotolo anche un conto è la persona perché se la persona è caritatevole è generosa e buona beh Dio tiene conto di queste cose e non del cristiano che magari va a messa tutti i giorni ma di cristiano poi nel nelle azioni non apre pressoché nulla ecco quindi è il nostro cuore che conta non è certo quello che una persona vuole farci vedere ma poi dentro la coscienza non è così pulita come sembra difatti noi non dobbiamo giudicare perché Dio conosce tutti conosce le nostre azioni conosce le nostre cose conosce tutto quello che noi facciamo e solo lui può giudicarci ecco perché il giudizio Padre Pio era molto severo sul giudizio delle persone adesso vi faccio vedere sempre dal libro di Don Dolindo Ruotolo la conferma di ciò che vi dico che però la Chiesa nasconde o parte della Chiesa nasconde che il comunismo è un anticristo perché Dio ha creato l'uomo libero e quindi qualsiasi dittatura è un anticristo questo Don Dolindo Ruotolo che non fanno più l'hanno messo dicono tutte le pagine in un unico volume non so di quante migliaia di pagine con i Vangeli e compagnie bella vedete cosa dice Don Dolindo Ruotolo nel capitolo tredicesimo e la Chiesa continua a dialogare con queste ideologie e di fatti ne vediamo il catastrofismo nessuno potrà negare per esempio la funzione di anticristo dei persecutori della Chiesa dei re di Persia di Maometto dell'imperialismo turco di Lutero e del protestantesimo di Robespierre e della rivoluzione francese di Carlo Marx e del comunismo di Hitler del nazismo di Loisì e del modernismo vedete il modernismo di oggi no? del razionalismo del criticismo e dello scientificismo vedete la scienza senza Dio è un anticristo abbiamo visto anche ultimamente con il Covid i vaccini compagnia bella ecco e questo è il libro di Don Dolindo Ruotolo la Sacra Scrittura San Giovanni l'Apocalisse ecco qua tante cose che ci nascondono ora voglio leggervi uno scritto sempre di Luigi Gaspari che lui ha scritto probabilmente in una conferenza a Gambettola vicino a Cesenatico San Valentino 1988 l'autorità è data da Dio a colui che serve di più vedete l'autorità dello Spirito Santo viene data da Dio a persone umili da chi serve di più il Signore e non a chi comanda di più avete capito? a chi comanda di più e che vuole comandare si ha il dono della parola di Dio quando si è data prova di volere servire Dio nell'amore dato al prossimo la vera grandezza divina è trasparenza quindi non è nascondere le cose oppure non lo so per quieto vivere far finta di nulla e sapere dell'errore e non dire nulla l'apparenza e come dicevo prima l'apparenza dalla persona che sembra che vada a messa tutti i giorni sembra che sia la persona più buona del mondo ma poi dentro quando si tratta delle azioni e beh questa persona è sempre assente l'apparenza è diabolica è orgoglio Dio prova la tua fedeltà donandoti un amico uomo se tu non vuoi essere fedele all'uomo amico non sarai fedele a Dio vedete quando si tradisce anche un amico si tradisce Dio non sarai fedele a Dio e Dio non si fiderà di te se tu tradisci un amico Dio non si fida di te non si confiderà a te solo perché tu non hai voluto essere fedele all'amico che Dio ti inviò per mettere alla prova la tua fedeltà a lui quindi tu non sei stato fedeltà all'amico e non lo sei neanche a Dio avete capito è come quello che in qualsiasi campo nel lavoro in qualsiasi campo nello sport una persona vi dice una cosa poi voi gliene dite un'altra e si avvera la cosa che avete detto voi ma poi dopo un mese due mesi o un anno voi rivedete quella persona e dice e visto che io ti avevo detto quello e sei avverato invece aveva detto il contrario ed eri tu che avevi detto quello che sei avverato ecco da quelle piccole cose si capisce se una persona è fedele o no se una persona dice la verità o no ecco la fedeltà è superiore al peccato se tu sei fedele all'uomo sei fedele all'amico sei fedele a Dio sei fedele hai praticamente i peccati ti sono perdonati la fedeltà vince il peccato la fedeltà è amore vivente la fedeltà è comunione dell'uomo con l'uomo con Dio Dio si comunica solo nella fedeltà ecco se noi siamo fedeli a Dio e facciamo la sua volontà non dobbiamo temere nulla perché i nostri peccati il Signore dei nostri peccati non è terra conto qualsiasi essi siano perché come diceva anche Luigi Gaspari che Davide ha fatto tanti peccati anche dalla carne ma quando Dio lo chiamava lui era pronto e si metteva contro tutto e tutti per mettersi dalla parte di Dio Dio mette oblio dei peccati commessi dall'uomo fedele all'amico uomo Dio la fedeltà cancella il peccato dell'uomo la fedeltà è umiltà e vittoria dell'uomo sull'infedele Lucifero la fedeltà è resurrezione della regalità già perduta dall'infedele Adamo Adamo e Eva peccarono di infedeltà a Dio l'uomo capace di essere fedele all'amico uomo è fedele all'amico Dio la fedeltà rende l'uomo meritevole dell'amicizia di Dio l'amicizia di Dio verso il fedele uomo fa degno l'uomo della piena confidenza di Dio gli uomini fattisi fedeli agli amici uomini prima o poi riceveranno il dono della conoscenza dell'amico Dio Dio vuole farsi amico confidente di tutti gli uomini che vorranno con tutto il cuore farsi fedeli amici dei fratelli uomini ecco questo è uno scritto del dottor Luigi Gaspari e ora vi voglio leggere un qualcosa sempre del padre Pio promore di Luigi Gaspari vedete pagina 195 padre Pio diceva il sacerdote che accetta il dialogo con i serpenti materialisti e si torna a quegli anticristi di cui parla anche Don Dolindo Ruotolo perderà il potere di comando di comandare i serpenti della menzogna perché ormai i serpenti della menzogna se lo prendono fanno quello che vogliono gli fanno dire e gli fanno fare quello che vogliono di liberare gli uomini allora il sacerdote che accetta il dialogo con i serpenti materialisti perderà il potere di comandare i serpenti della menzogna non possono neanche più fare gli esorcisti di liberare gli uomini per lasciare il posto a Cristo verità amore il sacerdote fedele nell'amare fermamente la verità del Vangelo vedete si ritorna alla fedeltà altro che dire che il Vangelo non è verità assoluta non dovrà temere la sua umana debolezza perché l'amore alla verità è superiore ad ogni debolezza è la forza di Dio nell'uomo il sacerdote della verità di Cristo potrà portare l'amore la pace e il benessere nel mondo solo liberando cuore e mente dell'uomo dallo spirito del serpente menzognero parlare di Dio verità e aprire la porta alla potenza dell'amore che è providenza di Dio in mano agli uomini parlare di fame del mondo nel mondo e disperare e non credere nel potere della verità capace di liberare nell'amore i beni di vita schiavi dei serpenti della menzogna del mondo oracolo di Dio al mio Signore siedi alla mia destra finché avrò posto i tuoi nemici a scanno dai tuoi piedi l'Eterno estenderà da Sion lo scettro della tua potenza regna nel mezzo dei tuoi nemici nei secoli eterni Salmo 110 1 2 vedete Dio la salvezza e il suo intervento di giustizia il suo intervento di giustizia che anche Luigi Gaspari ha visto in un sogno ha scritto in una sua lettera vedete lettere 1946 71 scrive alla sua amica Bianca Bologna 30 marzo 68 Bianca carissimo ho fatto uno stranissimo sogno e sento il bisogno di comunicarlo subito a te ero in una magnifica valle verde di lontano si intravedevano tante città le case i palazzi sembravano tutti trasparenti vedete alla fine saremo tutti trasparenti il Signore ci farà vedere per quello che siamo se siamo puliti o se siamo sporchi i nostri peccati si conosceranno e non si potrà mentire le case i palazzi sembravano tutti trasparenti cioè lasciavano vedere l'interno le cose le persone io guardavo affascinato di tanta bellezza ma mi sentivo triste camminando mi avvicinai alla periferia di un grosso centro un enorme insegna a carattere di fuoco si trovava all'ingresso della città questa è la giustizia di Dio vi era scritto ma poi arriverà lo spirito di verità quindi il Signore arriva e smaschera tutta la menzogna tutte le menzogne ovunque siano che farà saltare tutto ciò che è stato eretto dagli spiriti di menzogna più avanti un meraviglioso monumento al grande profeta Elia ecco il grande monumento al grande profeta padre Pio che aveva lo spirito di Elia e di Giovanni il Battista verrò presto a Roma con tanto desiderio di rivederti e spiegarti meglio la nuvoletta dello spirito di verità sembrava rendere trasparente tutto e tutti vedete non si potrà più mentire perché la falsità la menzogna verrà fuori e anche quelli che dicono di essere i buoni cristiani ma poi dentro tanto non lo sono saranno trasparenti davanti a Dio agli uomini e a tutti noi nel cammino lasciava dietro di sé crolli nel cammino lasciava dietro di sé crolli ora devo uscire ho fretta appena possibile ti scriverò a lungo ti penso sempre e con pensieri di bene ti auguro ottimi affari e pieno gaudio spirituale e fisico salutami tantissimo la cara Elia e Corrado ti abbraccio tuo Luigi ecco che la verità verrà fuori verrà a galla nessuno potrà nascondere la verità e tutto sarà trasparente dal quaderno dell'amore vi voglio leggere ancora questa piccola parte voi che siete a contatto con le menzogne degli uomini combatterete in voi stessi ogni spirito di non verità di viltà nel vedere il male provocato dall'imposizione della bugia io posso aiutarvi ad accelerare il ritorno al bene vostro solo nella verità quindi Dio non ascolta le preghiere di coloro che non amano la verità o che vogliono dialogare con la menzogna io posso aiutarvi ad accelerare il ritorno al bene vostro solo nella verità solo nella verità avete capito non si può pregare per che finisca una guerra se poi le cose continuano ad andare alla stessa maniera io continuo ad ammazzare io continuo a rubare io continuo e come fa il Signore ad ascoltare il Signore vuole la giustizia soprattutto per salvare i suoi veri fedeli perché soffrono e continuano a soffrire il Signore non vuole più che soffrano e che continuino a soffrire vuole liberarli vuole dargli la nuova era il compito vostro è di volere il mio intervento vedete nell'abbattere le false credenze imposte da uomini assetati di vendetta e desideri di dominio su tutti e tutto il crollo di questi miti falsi sarà inesorabile e inevitabile io anticiperò tale crollo quando sarà chiesto con amore da voi Signore lo vogliamo fai crollare tutta la menzogna la vostra richiesta farà smascherare tutto e tutti i centri di diffusione di menzogne che portano rovine incalcolabili a tutto il mondo dal quaderno dell'amore del dottor libricino descritto nel decimo capitolo dell'apocalisse così come padre Pio ha detto al dottor Luigi Gasperi che doveva scrivere questo libricino perché sarebbe stato importantissimo per la salvezza del mondo della chiesa e di tante anime e tutti coloro che l'hanno combattuto e lo combattono dovranno fare i conti con nostro Signore perché alla fine lo spirito di verità trionferà ecco adesso la storia anche del primo maggio del 2 maggio li troverete appunto padre Pio è il terzo segreto di Fatima con la collaborazione di Daniele Gallo Luca Serafini edizione il segno che troverete e allora richiedete edizione il segno oppure ordinarlo su Amazzo su ebay su questi siti online ecco per di più volevo ricordarvi che nella mia community di questo canale troverete in archivio Gasperi le conferenze audio del dottor Luigi Gasperi e vi renderete conto di che profeta era il dottor Luigi Gasperi perché quando lo ascoltate sentite proprio che non è più lui a parlare ma è lo spirito santo e ci sono tantissime conferenze audio quindi magari col tempo piano piano ve le potete ascoltare per quanto riguarda poi sul mio canale telegram troverete appunto che è padre Pio e la nuova era dell'amore troverete appunto documenti della mia famiglia della mia famiglia me con Luigi Gasperi anche le archivio Gasperi conferenze appunto del dottor Gasperi e si chiama padre Pio e la nuova era dell'amore mentre sul sito ufficiale del quaderno dell'amore potete trovare che si chiama Luigi Gasperi autore del quaderno dell'amore ecco lì troverete tanti documenti anche quando andò in alla cassa del mezzogiorno a richiedere i lavori per San Giovanni Rotondo e c'è la dedica di Don Dolindo Ruotolo che dedica a Luigi Gasperi appunto che lo spirito santo lo avrebbe illuminato e aiutato nel suo compito ecco adesso per quanto riguarda il quaderno dell'amore padre Pio profeta dell'amore le lettere a Maria le lettere di Luigi Gasperi padre Pio mi ha detto padre Pio Elisna e tutte le opere e le lettere del dottor Luigi Gasperi figlio spirituale prediletto di padre Pio potete richiederlo ad un numero di whatsapp con richiesta scritta solo scritta perché non vi risponde nessuno e quindi voi richiedete appunto o i quaderni dell'amore o padre Pio profeta quello che vi interessa a questo numero di whatsapp con richiesta scritta appunto 371 3956034 ecco per di più vi volevo ricordare anche il libro della dottoressa Esther Luiana Maddaloni chiede editore Chimerick credo che lo troverete anche in libreria se lo richiedete vedete qui Esther Maddaloni racconta anche la storia di quando Luigi Gasperi di padre Pio gli è apparso a San Giovanni Rotondo nel 1999 nel settembre vi dico apparso perché era morto da 4 anni e nel parlare appunto del quaderno dell'amore di Dio verso gli uomini questo grande amore ha detto praticamente al figlio presente che era appunto un bambino siccome aveva una malattia ad un occhio molto grave doveva essere operato che sarebbe guarito da quel problema all'occhio e non solo e un giorno lo avrebbe rivisto e lo avrebbe riconosciuto perché appunto Luigi Gasperi aveva lo spirito di San Giovanni l'Evangelista e Davide quindi tutti questi grandi santi sono riapparsi e riappariranno sulla terra per combattere l'Anticristo ecco lei chiaramente non conosceva il Dottor Gasperi ma quando trovò poi in casa il quaderno dell'amore e l'Olesse vide le foto dei Luigi Gasperi e quindi telefonò a Bologna per parlare col Dottor Luigi Gasperi ma telefonando a Bologna gli rispose il Silvio Causo e gli disse io la farei parlare volentieri con il Dottor Gasperi ma il Dottor Gasperi è mancato il 18 di novembre del 1995 quattro anni prima quindi miracolo ancora più grande perché questa donna ha visto il Dottor Gasperi quattro anni dopo la morte che lei non conosceva e gli ha parlato come qualsiasi persona vivente parla a noi soltanto che lui era in paradiso da quattro anni come quando io una settimana dopo la sua morte mi apparve in sogno nel dormiveglio e lo vidi con il con la giacca a doppio petto bianco e voi sapete che il doppio petto è il classico dell'eleganza quindi lui era già in paradiso vicino a Gesù Maria Padre Pio e mi ha detto tu non devi avere paura ecco perché io sono qua a parlare a voi perché io non ho paura vi abbraccio a tutti che Dio ci benedica e che venga nostro Signore il più presto e che la menzogna crolli in tutti i campi in tutti i sensi un abbraccio a tutti che il San Giuseppe il lavoratore ci benedica un abbraccio a tutti